Allora, eccoli qua, loro sono i bimbi della nostra associazione e io ci tenevo che stasera c'erano anche loro, c'è anche la nostra mascotte qui, Aurora Vieni amore, vieni, 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 guarda lui è più tremendo, guardalo, guardalo, guardalo Dove ci mettiamo? Siediti un po', mettiti giù, lo mandiamo un saluto lassù? Lo vogliamo questo palloncino tutti insieme? Sì? Allora vogliamo il palloncino e facciamo ciao lassù il cielo, tutti su, vai già già, vai, lascialo, lascialo già, vado volare, bravi! E con questo salutiamo i nostri angeli che sicuramente dall'assù ci stanno guardando Grazie ragazzi, allora io per voi ho un piccolo ringraziamento perché siete stati gentilissimi a venire qua stasera, allora ce l'abbiamo per Nicola, per Maria Rosaria e per Giulia Grazie, 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 potete anche andare, belli loro, buona serata Allora, adesso io mi dispiace tanto perché in questa serata è stata invitata anche la scuola di Katia Marafioti, purtroppo Katia questa sera non sarà qui con noi perché non si è sentita molto bene oggi pomeriggio e le mandiamo un saluto e quindi rifacciamo l'applauso, bravi! Però ci ha mandato i suoi ragazzi, i suoi ragazzi, dove sono i ragazzi di Katia? Che adesso salgono? I ragazzi di Katia dove sono? Eccoli qua, che carine loro! Allora, tu come ti chiami? Sire E tu? Gioia Gioia, come siete bellina? Quanti anni hai tu in Gioia? Nove E tu? Dieci Dieci, ma sono proprio tutte vestite di bianco come degli angioletti Allora, siete solo voi due? Sì, ok, perfetto Allora, sistemiamo i microfoni A queste due meravigliose bimbe Eccole qua, perfetto Mettetevi qua, guarda, al centro del palco Qua, qua, dove dice Se non mi picchia Si sente Non va Sta dormendo Ripigliamoci Gli do il mio? No Sì Questo c'è L'altro Non c'è L'altro non c'è Gli do il mio? C'è Ce l'abbiamo fatta Hai visto? Ok, perfetto Io lascio il palco a questi due splendidi angioletti Applausi